venerdì 18 agosto in diretta da torre paduli rosaria ricchiuto presente il tradizionale concertone della notte di san rocco organizzato dalla fondazione notte di san rocco nelle terre del salento benvenuti al concertone della notte di san rocco venerdì 18 agosto a partire dalle ore 21 fino all'alba del giorno dopo concertone della notte di san rocco stiamo per festeggiare san rocco è un grande santo pensate un santo amato in tutta europa mi piace ascoltare questa musica stasera è una serata importante per il mio percorso serata stupenda c'è un mare di gente non so non sono ancora molto emozionato bellissimo veramente una grande atmosfera viva viva salento venerdì 18 agosto a torre paduli dalle ore 21 in diretta su telerama canale 12 telesalento canale 73 su radio rama fm 95.8 106.2 106.4